Viaggiamo con Francesco Gabbani, viaggiamo verso Ferrara dove Gabbani il 23 sarà al teatro comunale per alcuni custodi giustamente, per alcuni amici di passaggio, per chi ci chiama al telefono adesso e per tutti voi che sarete collegati in come si chiama streaming, che assomiglia un po' a dreaming, a sogno e sentiamo canzoni come Karma Occidentale, tentativi di raccontare pensieri attraverso la musica che in modo forse più popolare e anche più semplice, Gabbani deriva dalla lezione di un grande maestro il cui silenzio evoca in noi la memoria del suo karma e delle sue parole, che è Franco Battiato. Battiato è lontano, guarda, ascolta, il suo canto è dentro di noi. Oggi Gabbani, come un allievo, tiene viva quella canzone dalla quale si esprimono pensieri, speranze, ricordi e anche una profonda idea religiosa. Il 23 induce tutti, credenti e non credenti, a pensare che Dio, se c'è, è dentro di noi e Dio c'è perché noi abbiamo un'anima viva e Gabbani ce lo ricorda con le sue canzoni, anche in modo leggero, diretto, in attesa che passi un anno terribile e arrivi l'anno della speranza e della libertà.